E' finto E' finto? Vabbè E' così che voglio mettere gli imp io Così, finto Decorativi Quanto è lungo? E' alto Boh Vedi qua Inseriamo il maial Quanto cazzo è lungo? Non lo so quanto è alto Cazzo Quanto l'ha alzato sto coso? Ci ha messo due giorni A fare così con la rotella al mouse D'un boulder No, sali No Guarda su, guarda su Fammi vedere com'è Non posso Sei disattivato? Eh, l'ho disattivato, si Che cazzo Per favore non richiamarlo Fammi almeno uscire Ok Quanto è alto? E' troppo Stai Ma lei ce l'uscita lì sopra e basta Per me f12 E' infatti è quello che sto facendo Sto guardando con f12 Stronzata Non c'è nulla da vedere dalla mia parte Ok Si è svegliato il maiale Sono finito giù Eh? Sono finito giù Dai Comunque si era svegliato il maiale E l'ho ammazzato Non commento C'è si commenta da solo ragazzi Gente si commenta da solo veramente Cos'è? Hai qualche obiezione da fare? La scelta era un po' lungo Sali No 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 Per favore Perché io non sono spirito No Eh ci sono dei baroni che escono da davanti a noi Poi e poi Eh che dato Eh questo ne sono io puntato adesso Sicuro? Ti curo Scusa eh guarda Hai la musica da scensore Farò un montaggio Ho capito Highlight Highlight Noia Anche Eh Quello ascenore Eh Dove Tanto se muori Conta Sono morto No pure io Aspetta Solar 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 Dovevi lasciarmene una No 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 Sto guardando quella F12 ogni tanto, guarda io prendo il F12 e scambio, guarda di guarda. Ti vedo dall'altro lato. Aspetta, insomma io potrebbe uscire un barone da qua sopra. Solsi! Le Solsi non hanno avuto il tempo di risponare, rendiamocene conto. Quanto ci metto a risponare? Sali! Il mio cadavere! Ci sono anche i baroni! Quanti baroni ci sono? Cinque o sei dovrebbero essere. Quindi due ci sono fatti fuori, non so quanti sopra. Veramente è dall'altro lato la cosa. Con la mappa puoi vedere. È giusto. Con la mappa che accorgi del lato in cui è il corridoio. Sarà una cosa lunga. Con questo ascensore. Ma io voglio aprirlo poi su Doom Builder e vedere quante... Ma io questo voglio... Questo voglio...